La Germania è stata in passato terra di emigrazione per moltissimi italiani in cerca di opportunità di lavoro. Vediamo come è adesso la situazione con Marco Varvello. Buongiorno, partirei da un servizio che avevo fatto poco più di un anno fa e ho ritrovato il testo. Nel 2007 appunto il servizio era sulla mancanza di ingegneri nell'industria tedesca, per cui scrivevo che la Porsche ne cercava 300 e poi che la Siemens offriva addirittura incentivi se i propri dipendenti segnalavano, o in Germania o facendoli venire dall'estero, degli ingegneri che poi venivano assunti. Ecco, chiaramente questo adesso non c'è più, nonostante, e vediamo queste immagini, lo sforzo anche della Germania di investimenti nel settore delle costruzioni, nel settore pubblico, c'è la crisi, la crisi si sente, proprio stamattina sono usciti i dati delle esportazioni tedesche di gennaio che sul gennaio dell'anno scorso sono calate del 20%, quindi è chiaro che le opportunità di lavoro anche per chi viene da fuori vanno misurate con la situazione attuale. Però diciamo quali sono i settori tradizionalmente dove gli stranieri hanno più spazio, anche in Germania, l'abbiamo già sentito in altri paesi, ristorazione, strutture alberghiere, innanzitutto, che sono un po' cavallo di battaglia anche per gli italiani, quanti consierci, direttori d'albergo, chef conosciamo un po' nei ristoranti, negli alberghi in Germania come in altri paesi in giro per il mondo, e poi il settore sanitario, dove sono moltissimi gli stranieri anche in Germania, dagli infermieri ai medici, in media arrivano dall'est Europa o dal sud-est asiatico e in media hanno studiato in Germania. E qui veniamo al punto interessante, direi, di maggiore sviluppo, cioè il fatto che la Germania investe molto in ricerca, nella educazione, il 2,5% del prodotto interno lordo, molto superiore alla media europea, più del doppio di quanto investe l'Italia, quindi direi se degli italiani cercano lavoro adesso possono trovarlo proprio nei centri di ricerca, nell'università, posti direi anche anticiclici perché sono finanziati di solito con soldi pubblici, quindi ingegneria, informatica, scienze, guardare su internet, mandare curricula ai personal apteilungen, come si dice qui in Germania, l'ufficio del personale, quindi chiaramente un'emigrazione intellettuale e di cervelli che forse in Italia hanno meno spazio. È tutto.